Partita senza dubbio decisiva, importante perlomeno per quanto riguarda la sfida alla salvezza, quella tra Parma e Cesena, una sfida delicata in particolare chiaramente per i romagnoli e per il destino del suo allenatore. Una partita importante perché comunque il Parma è lì e se riusciamo a vincere sarebbe molto importante per noi perché comunque ci dà anche a livello morale sarebbe importante, poi per loro diciamo che potremmo metterla in difficoltà. Purtroppo penso che a noi non fa mai piacere venire in ritiro ma se siamo qua vuol dire che quello che stiamo facendo non è abbastanza siamo venuti qua con l'idea di migliorare, di cercare di fare qualcosina in più in tutti i sensi quindi speriamo che ci aiuti e ti ripeto di prendere qualche punto anche a Parma. Chi pensava che il Cesena si poteva salvare facilmente sicuramente ha sbagliato. Noi eravamo consapevoli di questo campionato, del campionato che dovremmo fare, che dobbiamo fare è un campionato da soffrire, dovremo soffrire fino alla fine, speriamo di alla fine festeggiare la salvezza.